I carabinieri di Agnon hanno arrestato una coppia di coniugi, un operaio e una casalinga di origini campane, ma residenti a San Salvo per detenzione e spaccio di droga, nonché detenzione abusiva di munizioni. La pattuglia del centro altomolisano, nel corso di un posto di controllo, ha intimato l'alt alla macchina, sulla quale viaggiavano moglie e marito, che, alla vista dei carabinieri, hanno provato subito a disfarsi innanzitutto di un involucro di cellofan lanciandolo dal finestrino. L'involucro è stato però recuperato all'interno, i militari hanno scoperto che vi erano conservati 8 grammi di cocaina. Nell'immediato e a seguito di perquisizione personale e della macchina, i carabinieri hanno trovato altri 3 grammi della stessa sostanza, poi 370 euro e materiale vario. Quindi, da questo momento, ne è nata una perquisizione domiciliare, che è stata eseguita poco dopo presso l'abitazione dei due e che ha permesso ai militari di rinvenire e sequestrare altri 76 grammi di cocaina, 2.180 euro in contanti, un bilancino elettronico di precisione e due cartucce calibro 223. Sono in corso ora le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Agnone. Grazie a tutti.